Iscriversi al Master del Terrenial Lab rappresenta l'opportunità di partecipare a un percorso formativo davvero arricchente. Perché ti dà l'opportunità di approfondire tematiche molto specifiche nell'ambito del sistema elettrico e soprattutto di acquisire competenze trasversali e una visione completa dei processi dell'azienda. Da questa esperienza mi porto a caso l'approfondimento delle dinamiche del sistema elettrico, una maggiore consapevolezza delle sfide della transizione energetica e soprattutto la conoscenza di tante belle persone che avrò il piacere di definire colleghi. Se dovessi descrivere questa esperienza in tre parole direi entusiasmo, transizione energetica e trasversalità per la ricchezza dei contenuti informativi e la varietà delle specializzazioni da cui provengono i professionisti coinvolti. Dopo il Master mi vedo proiettata verso una realtà dinamica con la possibilità di poter applicare le conoscenze acquisite durante il mio percorso di studi. Per me la priorità è contribuire a processi di sviluppo sostenibili. Consiglierai il Master non solo perché è una valida opportunità formativa che dà la possibilità di toccare con mano argomenti anche complessi relativi al settore energetico, ma anche perché rappresenta una garanzia per i suoi studenti che possono iniziare a mettere il primo tassello del loro futuro lavorativo.